ciao sono diego stacchiotti fondatore e coordinatore della drum school scuola di batteria se sei interessato al vastissimo mondo della batteria ti consiglio di iscriverti al mio canale ma soprattutto di cliccare qui in basso dove troverai la campanellina per rimanere sempre aggiornato in questo video voglio darti tre consigli per studiare meglio 1 contestualizza che si tratti di frammenti di solfeggio rudimenti ritmi o film metti subito in pratica ciò che stai studiando suonandoli all'interno di un brano di una base mi raccomando non farlo con la tua band 2 lavora bene sulla velocità per avere il massimo del relax e della fluidità esecutiva studia sempre ad una velocità superiore a quella che dovrai affrontare sono non suonare mai al limite se per esempio il brano che dovrò suonare a 120 bpm mi allenerò a 130 3 prima di iniziare a praticare prendi l'abitudine di seguire sempre questi tre punti primo controlla l'impostazione delle mani ed eventualmente corregge 2 pensa sempre alla tecnica free stroke evita inutili contrazioni mantenendo costante il tuo relax muscolare 3 presta sempre attenzione alla precisione tra arti superiori ed inferiori bene anche per questo video è tutto ci vediamo il prossimo video